La società operaia di mutuo soccorso di Cireto Sannita ha in cantiere una serie di iniziative che dureranno tutto l'anno per commemorare l'onorevole Michele Ungaro, personalità rilevante del circondario, uomo politico e letterato, vissuto tra il 1819 e il 1890. Le iniziative culmineranno nei mesi di settembre ed ottobre, quando assisteremo, fra le altre cose, alla presentazione della raccolta di studi storici che esperti e appassionati stanno redigendo. Si tratta di studi che hanno l'obiettivo di approfondire i vari aspetti della complessa personalità di Michele Ungaro e di farci comprendere meglio il suo operato. Michele Ungaro fu deputato per quattro legislature, dalla nona alla undicesima, sindaco di Cireto Sannita e primo presidente del Consiglio Provinciale di Benevento dopo l'unità d'Italia. Si adoperò all'indomani dell'unificazione per dotare la neonata provincia di infrastrutture adeguate e per rilanciare l'economia locale attraverso diverse iniziative e sostegno in particolare di contadini e allevatori. Fu il promotore della società operaia di Cireto Sannita, concepita per sostenere moralmente ed economicamente gli operai e gli artigiani ceretesi, migliorando, al contempo, la loro istruzione. Tradusse un'intera enciclopedia da francese all'italiano e fu autore di diversi saggi politici, oltre che di deliziose poesie. Il programma del bicentenario dalla nascita dell'onorevole Michele Ungaro, elaborato dal Consiglio Direttivo della Società Operaia il 23 marzo 2019 e convalidato dall'Assemblea dei Soci lo scorso 5 maggio, prevede una serie di conferenze e visite guidate e mostre alle quali si uniranno alcune iniziative dedicate unicamente alle scuole. Il primo passo delle celebrazioni del bicentenario è costituito dall'invito, rivolto a studiosi ed appassionati di storia, a redigere saggi storici, articoli, poesie o racconti riguardanti l'Ungaro, il suo impegno politico e la sua produzione letteraria. La raccolta dei saggi, terminato il lavoro di impaginazione, verrà pubblicata online in formato PDF e liberamente consultabile e scaricabile dal sito internet della Società Operaia. Prima della pubblicazione, la società effettuerà una presentazione al pubblico che avrà luogo presso la sede sociale durante una delle domeniche di ottobre o novembre 2019. In caso di ricezione, di sponsorizzazioni o di finanziamenti adeguati, si procederà anche alla stampa di copie cartacee. I lavori devono essere redatti in formato Word, è possibile allegare foto o disegni, il tutto va inoltrato alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cereto Sanita entro e non oltre il 15 agosto 2019. Post elettronica, SOMS, Cereto Sanita, chiocciolagmail.com Il logo del bicentenario è costituito da un ritratto dell'onorevole Michele Ungaro, realizzato dalla giovane artista Angela Tammaro, utilizzando penna, gessetti e caffè. Grazie a tutti.